Come avete sentito, oggi la Commissione propone di far scattare il fondo di solidarietà in risposta ai terremoti devastanti che hanno colpito le regioni italiane di Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo in agosto del 16 gennaio di quest'anno. La Commissione propone aiuti per un totale di 1,2 miliardi. Per i nostri amici italiani mi rivolgo ora in italiano. Ho visitato Norcia e Cascia, due dei comuni più colpiti dal seisma, e ho visto con i miei occhi i terribili danni alle abitazioni, ai monumenti, alle attività commerciali. E' per questi motivi che sono particolarmente contenta di annunciare che il Fondo europeo di solidarietà garantirà all'Italia 1,2 miliardi di euro per la copertura dei danni causati dai terremonti. Questo aiuto finanziario che oggi proponiamo è segno tangibile della nostra solidarietà con il popolo italiano. Voglio sottolineare che non si tratta di un favore concesso all'Italia, ma un preciso dovere che l'Europa è quello di dimostrare la propria solidarietà con i cittadini dell'Unione dovunque nel momento del bisogno.